Mi presento, per chi non mi conosce, mi chiamo Ugo Viora, sono vicepresidente di ANAPONLUS, che è l'associazione nazionale gli amici per la pelle, che si occupa di malattie dermatologiche croniche, nonché presidente dell'associazione piemontese dei malati reumatici, ma questo è un altro conto. Mi è stato chiesto di illustrare quelle che sono i desiderata dei pazienti. E quindi mi sono un pochettino impegnato nel partire un po' da, vabbè, disclosus, lasciamo le perdere, sono volontario, quindi non credo che ci sia nessun riscontro da fare. Paziente, paziente persona malata, persona soprattutto, che vuole riacquistare nel più breve tempo possibile la salute, è assillato da mille problemi quotidiani e molto spesso può apparire scontroso, addirittura antipatico, ma in realtà ha proprio soltanto bisogno di un minimo di, chiamiamole coccole, ecco, per intenderci. Tanti, soltanto di psoriasi ci sono due milioni e mezzo di italiani, pochi che si associano e che capiscono che cosa voglia dire associazionismo, perché sono ancora legati al vecchio concetto di cui parlava prima il dottor Guidi, del paziente che batte il pugno sul tavolo per avere. Non è più quello il momento, il momento di avere delle proposte concrete, di poter discutere tenendo conto delle esigenze nostre, ma anche delle esigenze del sistema, perché se no non andiamo più avanti. Quindi ha chiesto anche un notevole sforzo dal punto delle associazioni di empowerment reale, cioè di avere delle persone che avessero quantomeno delle esperienze tali da poter discutere quasi interpares, un po' con tutti, quindi farmaco-economiche piuttosto che di health technology assessment, piuttosto che di statistica e quant'altro. Questo chiaramente ai pazienti piace poco perché i risultati sono a medio-lungo termine, non sono dei risultati immediati. Domandandomi che cosa chiedono i pazienti, la prima cosa che viene chiesta proprio per questo vecchio modo di intendere l'associazione è che vengano rispettati i diritti. Diritti che molto spesso i pazienti non sanno neanche quali siano, perché manca l'informazione su questo aspetto e che sostanzialmente sono per quanto riguarda le malattie dermatologiche molto bistrattati se vogliamo, perché le esenzioni sono assolutamente parziali, voi sapete benissimo come funziona il discorso, perché l'esenzione per patologie è regolamentata da un decreto del 2001, quindi ormai abbastanza obsoleto e prevede proprio soltanto prestazioni diagnostiche, visite specialistiche e alcune terapie che ormai non sono quasi più utilizzate o che sono previste in maniera parziale. Ad esempio le cure termali, lo vedremo più avanti, sono previsti 12 cicli e mediamente se ne fanno 18, per cui 6 sono a totale carico del paziente. In più c'è tutto questo discorso che per quanto riguarda i pazienti psoriasici li taglia sostanzialmente fuori da qualsiasi tipo di esenzione, a meno che non abbiano delle forme gravissime di patologia. Pustolose ed eritrodermica sono quelle che tutto sommato sono trattate meglio. Un po' meglio va con le malattie rare, perché sono sempre un pochettino più seguite, un pochettino più viste con attenzione, però portano anche a dei paradossi. Ad esempio un paziente che ha una diagnosi di connettività indifferenziata, tutto sommato conviene che non vada oltre nell'approfondimento diagnostico, perché nel momento in cui magari la connettività indifferenziata diventa lupus, perde un sacco di esenzioni e quindi è meglio che stia lì, purtroppo. Per quanto riguarda invalidità handicap assolutamente, stendiamo pietosi veli perché nelle commissioni dermatologi non ci sono mai. Si va per assimilazione di patologia, trovare una patologia che sia più o meno assimilabile e che sia nelle tabelle è praticamente impossibile e quindi anche qua arriviamo al massimo a 35% di invalidità per un paziente che magari ha un'artrite psoriasica che gli ha fatto perdere due dita. Francamente l'aiuto e il diritto di questo paziente non è che sia molto seguito. Farmaci e terapie sono praticamente nella maggior parte dei casi a carico del paziente perché salvo chi fa terapie biologiche o terapie a base di ciclosporina o immunosoppressori, tutto il resto sono farmaci in fascia C o addirittura presidi o addirittura cosmetici e quindi la spesa ad esempio per un paziente che abbia una psoriasi lieve è di circa 250 euro al mese soltanto di farmaci e presidi considerando che per psoriasi lieve si intende una psoriasi che può anche essere molto diffusa ma nello stesso tempo non ha delle grosse manifestazioni esterne. In più ogni regione può deliberare per conto proprio per cui c'è questa disparità che si verifica non soltanto all'interno di una singola regione o tra un'altra ma addirittura un problema di mobilità che si pone nel momento in cui il paziente non molto spesso è costretto a cambiare regione per motivi di lavoro perché ormai non possiamo più esimerci dal fatto di accettare un cambiamento o uno spostamento di vita. Qui speriamo che la revisione delle lea ci aiuti un pochettino e speriamo che la maggior parte delle regioni che in piano di rientro riesca ad uscirne in maniera tale da poter ripristinare anche eventualmente degli extra lea che vengono automaticamente eliminati dall'entrare in piano di rientro. Regione Piemonte ad esempio dava per alcuni per i pazienti con malattie dermatologiche croniche a carico del sistema regionale le medicazioni e le creme base da quando siamo entrati in piano di rientro chiaramente sono state tolte perché era un'extralea e sono state concesse soltanto più a chi ha delle ulcere aperte e quindi anche qua è un problema serio. Oltre ai diritti i pazienti chiedono ascolto, chiedono ascolto perché il ruolo del malato deve essere paritetico rispetto a quello del medico e del personale paramedico che lo hanno in cura. Questo è un discorso che viene portato avanti anche a livello europeo ed è un discorso che pone il paziente alla sua famiglia come principale fonte da cui trarre le informazioni non sulla patologia in generale ma sulla sua patologia e su quello che per lui vuol dire vivere quella patologia, lui e la sua famiglia. Purtroppo il medico, come diceva il presidente delle associazioni europee di malatti cronici, il medico conosce la patologia e le terapie ma il paziente è la malattia da cui è affetto e quindi assolutamente non possono prescindere l'uno dall'altro come dialogo. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato insieme all'Associazione Nazionale dei Malati Reumatici e ad Amici che è l'Associazione dei Malati Affetti da Malattie Intestinali Croniche ad un progetto di ricerca che si chiama Mosaico che ha analizzato l'incidenza della malattia sulla vita di tutti i giorni, l'aderenza alle terapie e il rapporto medico-paziente. Analizzando attraverso scale apposite che vedete qui esplicate ad esempio l'incidenza della malattia sulla vita di tutti i giorni vediamo che le malattie dermatologiche sono decisamente molto impegnative per quanto riguarda il discorso. Vedete che si arriva a un 35,8% di pazienti che dicono di essere seriamente impediti nella loro vita di tutti i giorni dalla malattia. Io qui ho portato soltanto i dati dermatologici, non ho portato i confronti per evitare confusione nelle slide. La difficoltà o fatica nell'assumere i farmaci, anche questo è un dato molto interessante, nelle malattie dermatologiche abbiamo un'aderenza all'assunzione, quindi difficoltà ad assumere le terapie prescritte con un valore di 1,8 su 3 per cui decisamente molto elevato. E soprattutto il rapporto con i medici e il personale sanitario è risultato essere decisamente insoddisfacente. Qui non ho portato il confronto con le altre categorie di specialisti perché era un pochettino impietoso nei confronti del dermatologo. Purtroppo il rapporto con il dermatologo è risultato essere il peggiore rispetto alle altre, ai gastroenterologi e ai reumatologi. Il sostegno da parte dello staff sanitario è stato giudicato insufficiente, vedete, e soprattutto si è visto che l'aderenza alla terapia aumentava man mano che aumentava questo sostegno. E questo è comprensibile, ovviamente. E quindi, quello che è un dato importante è che lo specialista ed il paziente davano delle impressioni, delle indicazioni diverse su quello che era l'aderenza. Nel senso che il medico era convinto di avere dei pazienti molto più aderenti di quanto i pazienti non fossero effettivamente. Questo perché probabilmente non c'è un dialogo sincero tra il paziente e il medico per un sacco di motivi e quindi il paziente spesso vi riferisce di aver fatto delle terapie che in realtà non ha seguito. In più, un dato molto interessante è che molti pazienti interrompono il trattamento senza comunicarlo al medico. E qui, di nuovo, è un problema di dialogo, di ascolto, di comunicazione. Io credo che veramente sia interessante il dato del quasi 25% di pazienti che danno questo segnale. E quindi i pazienti chiedono informazione corretta. Informazione su tutto. È un'informazione a partire da quello che è la sua nuova vita da persona malata e non più da persona sana. Ovviamente anche su quelle che sono gli obiettivi terapeutici perché si parla tanto di qualità di vita, si parla di tarare le terapie sul paziente, allora bisogna sapere qual è l'obiettivo del paziente prima di stabilire un obiettivo terapeutico nostro. Perché io posso avere una vita che non mi richiede più di tanto perché vivo magari in un paesino sperduto delle montagne piemontesi e quindi ho degli obiettivi che tutto sommato sono molto diversi da una persona che abita a Torino, che ha 30 anni e che ha una vita sociale attiva e che quindi ha decisamente degli altri obiettivi e delle altre abitudini di vita. Anche qui l'indagine Mosaico ha visto che sostanzialmente le informazioni che vengono date dal medico al paziente sono ritenute poco soddisfacenti da un grande numero di pazienti e non solo per quanto riguarda il modo di porle ma anche per quanto riguarda il linguaggio che viene usato. Io ho provato ad analizzare un pochettino i principali ostacoli che portano a questa cosa. Credo di aver individuato quelli che sono i punti forse principali partendo da un discorso che ho voluto così anche strammatizzando un po' sintetizzare con queste foto. C'è un problema culturale. Indubbiamente ci sono tanti medici che sono disposti a cambiare, che sono disposti a accettare questo nuovo ruolo del paziente, tanti purtroppo che sono ancora legati al fatto di stare su una pedana, su una cattedra e il paziente è un pochettino più sotto. Quindi questo è un discorso che porta molto sforzo da parte dell'un e dell'altro, da parte del paziente per emanciparsi, da parte del medico per scendere al livello del paziente. In più c'è un problema di comunicazione del paziente perché il paziente molto spesso vi racconta la rava e la fava e tutto quello che gli è successo da quando aveva due anni e magari tralascia di darvi le indicazioni che sono quelle legate al motivo per cui è di fronte a voi. E quindi voi ad un certo punto vi distraete perché chiaramente tutte queste informazioni non sapete cosa farle. E qui noi lavoreremo per fare in modo che il paziente abbia una sorta di scaletta per le cose che sono importanti in quel momento. Qui chiaramente abbiamo bisogno di una mano dello specialista che ci deve dire quali sono le cose che gli interessa sapere. Un altro problema è che appunto c'è un'esperienza clinica alla base per cui di fronte ad un paziente dispersivo che ti racconta di tutto tu hai già fatto la tua diagnosi sostanzialmente quindi prosegui su quel filo lì cerchi di prendere le informazioni che più o meno ti capitano dal racconto del paziente ma sostanzialmente non orienti la diagnosi su quello che ti viene detto e quindi c'è una comunicazione che diventa parlare a momenti alterni e non un vero e proprio dialogo in cui ci si ascolta e ci si contrappone. Questo perché nessuno dei due partners ha mai avuto una formazione specifica sulla comunicazione questo è innegabile quindi qui sarà il futuro che ci consenterà di formare gli uni e gli altri. Noi dal canto nostro abbiamo cercato di creare degli opuscoletti in cui si spiegano le malattie questa è un'idea che abbiamo preso dalla reumatologia della verità è il progetto 3 to target che è un progetto europeo sono librettini in cui insieme alla spiegazione della malattia in termini molto semplici insieme a quello che è una spiegazione dei sistemi di valutazione anche delle singole patologie c'è un glossario un glossario che ti spiega che cosa vuol dire il termine X piuttosto che il termine Y e quindi più o meno riesci a capire quello che ti viene detto. e poi c'è la mancanza di tempo ne parlavamo ieri la mancanza di tempo non deve essere una scusa per dire non posso ascoltarti perché molto spesso ed è stato anche riconosciuto ieri il fatto di avere un buon dialogo ti consente di risparmiare tempo perché ti consente di avere delle informazioni preziose che ti permettono di arrivare prima alla diagnosi. I pazienti poi chiedono ancora una condivisione delle strategie lo chiedono perché sentendosi coinvolti nella decisione sicuramente sono più responsabilizzati anche sull'aderenza alla terapia anche qui l'aderenza del paziente è importantissima ho riportato di nuovo la differenza tra i pazienti e tra l'opinione del medico e l'opinione del paziente per quanto riguarda l'aderenza e ho riportato anche le cause che nelle malattie dermatologiche sono principalmente perché la malattia dermatologica ha un andamento sinusoidale se vogliamo con dei momenti di pusse e dei momenti di remissione per cui quando il paziente si sente meglio se non è opportunamente responsabilizzato non prende più le terapie e quindi peggioriamo quello che è la cosa. Qui il confronto interessante con le altre patologie perché ad esempio nelle altre patologie sentirsi meglio è una delle cose meno rappresentate mentre invece le cose più importanti sono gli effetti collaterali che nelle malattie dermatologiche evidentemente non sono così importanti. Qui abbiamo valutato i pazienti trattati con biologici e abbiamo visto che probabilmente proprio perché per il biologico si dedica più tempo a spiegare quello che è la terapia e quello che sono gli effetti collaterali l'aderenza è decisamente migliore e arriva a superare addirittura quella che è l'aderenza dei farmaci contro il Parkinson per cui assolutamente siamo in condizioni molto quasi ottimali diciamo. L'ideale sarebbe arrivare a livello di ipertensione perché chiaramente lì abbiamo una fedeltà di trattamento che è quasi irraggiungibile. chiudo chiudo con qualche coccola in più qualche coccola in più che non vuol dire cose strane vuol dire superare queste condizioni che ci portiamo ancora avanti dopo 30 anni sostanzialmente perché il paziente è ancora brutto a vedersi indubbiamente paziente dermatologico è un paziente brutto un paziente che molto spesso non è neanche ben accetto nei reparti in cui viene ricoverato perché difficilmente insomma viene accolto dal vicino di letto senza apprensione oddio magari è contagioso è un paziente che viene isolato e si autoisola per paura di essere isolato e sostanzialmente in molti casi vabbè c'hai quattro pustolette insomma non è niente di grave mentre invece abbiamo visto che effettivamente è la punta di un iceberg che sottende ad una una comorbidità sistemica molto importante e in più sta incominciando a sapere quello che sono i suoi diritti è bombardato di informazioni non corrette da internet dalla nonna dalla suocera dal vicino di casa che gli dicono di tutto di più compra l'acqua americana ma solo quella perché quella italiana fa schifo l'olio del tipo della california che c'è un signore californiano che ha deciso che il suo olio ma solo il suo se preso a un paio di litri alla settimana fa passare alla psoriasi peccato che quest'olio costi qualcosa come 35 euro al mezzo litro e che assolutamente sia un olio di oliva normalissimo come tutti gli altri però abbiamo anche queste cose è un paziente che è possibilmente anche più fragile perché siamo nel momento della cultura dell'apparire per cui essere brutti non ti consente di andare ai talk show non ti consente di andare a fare parte del pubblico delle trasmissioni varie ed avere anche queste piccole fonti di reddito ed è sicuramente più arrabbiato però tutto questo passa nel momento in cui si sente considerato si sente considerato si trova di fronte ad un medico che dimostra di avere interesse su di lui come persone non su di lui come malato e condivide le scelte che lo riguardano per cui veramente gli elettara sulla sua condizione di persona malata quindi questi i cinque punti sei punti che chiedono i pazienti nel 2016 che noi come associazione cerchiamo di spiegare loro di consentire loro di raggiungere e vi ringrazio grazie 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 grazie